La questione di rispetto e della serietà con cui io prendo una relazione o una conoscenza. Io l'ho detto e l'ho ripetuto ad Heidi, l'ho detto davanti a tutti, è una persona con cui mi piace stare, con cui mi trovo molto bene, però io una persona prima di sbilanciarmi devo conoscerla non solo nei momenti felici, nei momenti di gruppo, ma nei momenti dove è arrabbiata, dove è triste, questo richiede un percorso. Questo è un discorso un po' parallelo al conoscimento di Anita. Ho capito, però io non capisco, ho capito la tua premessa, però tu hai detto che con Anita sto ancora su chi va là, cioè perché lei ha detto di essere fidanzata, di avere un rapporto fuori dalla casa ancora un po' compromettente, che la lega, è quello che ti frena come Paolo con Letizia? Perché qualsiasi cosa, no, perché Anita ha dei vincoli che rispetto e che mi impediscono di vederla sotto una certa luce, quindi io sono fatto così.